Non era il risultato che il Parma voleva questa sera? Sicuramente no, ma capita che il percorso è lungo, il primo tempo deve servire di lezioni per capire bene qual è il campionato che stiamo disputando, perché se tu regali un tempo a qualche squadra in Italia ti fa fatica, penso che il secondo tempo è stata una prova che abbiamo imparato e stiamo diventando squadra, questa è la cosa più importante, perché è un campionato ancora lungo e c'è la partita subito mercoledì e dobbiamo affrontarla come abbiamo fatto sul secondo tempo. C'è la fortuna appunto come dicevi tu di tornare subito in campo perché mercoledì si torna a giocare. Sì, quando tu giochi in casa di fronte ai tuoi tifosi tu vuoi fare una bella figura, ma capita, loro non sono stati bravi nel primo tempo, nel secondo tempo è venuto fuori di Parma che diciamo che ha fatto bene contro il Pordenoni, ma si sta, guardiamo avanti, testa bassa, pedaliamo perché mercoledì c'è un'altra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.